Cambiamo argomento e torniamo sull'inchiesta su un appalto della Asla di Pescara dopo la tragedia che ha visto uno degli indagati, lo psichiatra Trotta, a togliersi la vita all'interno del carcere di Vasto. Oggi ci sono stati gli interrogatori degli altri due indagati coinvolti nella inchiesta. Noi abbiamo in collegamento social, lo vedo già sul monitor, il nostro Luca Pompei che ci riferisce di ulteriori aggiornamenti su questa vicenda. A te Luca la parola. Sì grazie Antonella. Dunque come dicevi tu, interrogatori di garanzia questa mattina in collegamento remoto davanti al GIP Nicola Colantonio, le due componenti della cooperativa La Rondine in carcere nell'ambito dell'inchiesta su un appalto Asla da oltre 11 milioni di euro che secondo la procura di Pescara sarebbe stato truccato in cambio di regalie varie per un importo complessivo di 50 mila euro. Il primo ad essere sentito è stato Domenico Mattucci, legale rappresentante della cooperativa La Rondine dal carcere di Ranciano e difeso dall'avvocato Giuliano Milia. Stretto riservo sull'esito di questo interrogatorio, Mattucci pare abbia collaborato e spiegato la sua posizione, mentre intorno alle 11 è stata la volta di Luigia Dolce dal carcere di Chieti, anche lei collegata in sistema remoto, difesa dall'avvocato Augusto Lamorgia. Ebbene, l'interrogatorio è ancora in corso. Tutti e due gli avvocati Giuliano Milia e Augusto Lamorgia non hanno escluso la possibilità che nelle prossime ore possano richiedere un'attenuazione della pena che per i loro assistiti vengano concessi quantomeno gli arresti domiciliari e possano lasciare i carceri rispettivamente di Lanciano e di Chieti. Parallelamente, Antonella, la Procura di Vasto prosegue nell'inchiesta per accertare eventuali responsabilità per il gesto estremo del noto psichiatra Sabatino Trotta, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asla di Pescara, anche lui coinvolto nell'inchiesta e che nella tarda serata di mercoledì si è tolto la vita nel carcere di Vasto. I PM di Florio e Pecoraro hanno acquisito effetti personali e alcune lettere dello psichiatra, mentre nei prossimi giorni è previsto l'esame autoptico. Certamente nel corso della giornata del pomeriggio, Antonella, si emergeranno nuovi ed ulteriori dettagli su questi due interrogatori, sui quali, ripeto, vige il più stretto riservo. È tutto, Antonella, a te la linea.